Salve a tutti carissimi e bentornati in questo spazio. Quest'oggi vi voglio leggere un frammentino piccolissimo che poi commenterò, tratto dal testo Io sono quello di Srini Sargadatta Maharaji. Io sono quello Conversazioni col Maestro, testo di cui vi ho già parlato nei dieci testi che ho più amato. Vi ho parlato un po' anche di questo maestro Baba Bidi, chiamato amorevolmente dai suoi discepoli. Allora, questo frammentino che trovate a pagina 173 nel capitoletto La consapevolezza è libera l'edizione Eubaldini Editore Roma 2001, ristampa del 2001 Questo frammento è importantissimo nel momento storico che stiamo vivendo, è importantissimo anche per iniziare a dare completezza al percorso che stiamo facendo al lavoro di risveglio, di consapevolezza, di libertà, tanto esteriore quanto interiore Perché? Cosa tocca questo punto? Tocca quella domanda che ci ripetiamo spesso, mi mandate spesso, ma anche nei commenti sotto i video se andate a vedere la trovate spesso Mio Dio, questa società non sta bene, è malata, mi inquieta, se ho dei figli sono inquieto per il futuro dei miei figli, cosa posso fare per cambiarla? Ecco Nisargadatta dà una risposta che finalmente inizia a buttarci nelle profondità del nostro essere quello spazio che deve essere risvegliato, che deve essere conosciuto perché questa società sta così male perché ha come messo dei macigni giganti di fronte alla grotta del nostro cuore del nostro essere ha abbandonato la dimensione della metafisica è tutta fisica, ma magari la fisica quella illuminata è scientismo è materia nel senso più spregevole del termine questo è un processo che si realizza attraverso fatica scollegare gli esseri umani dalla loro consapevolezza non è semplice, ci vuole lavoro perché in realtà per riconnettersi ci vuole grande quiete possiamo dire che è un lavoro passivo nel mondo orientale, soprattutto nello zen è la non-azione l'azione della non-azione ma non entriamo in queste cose meditare, stare seduti e quieti è una forma di azione ma potremmo dire che è passiva noi per costruire questo scollegamento per generare questa frattura nell'essere umano abbiamo lavorato decenni, secoli secoli di in un certo modo illuminismo l'illuminismo inteso come il dominio della ragione sulla materia e che poi ha prodotto lo scientismo ha prodotto un essere umano che si pensa ecco gli illuminati si pensa illuminato nel suo dominio del mondo fisico e perde la dimensione sacra metafisica spirituale chiamatela come vi pare ma è una dimensione è la realtà dimensione è difficile trovare delle parole per qualcosa che la maggior parte delle persone non ha mai indagato allora cerco di usare diverse parole per dare un'intuizione è la nostra realtà più vera chi siamo realmente la religione non lo fa più addirittura le istituzioni le chiese in generale sono divenute dei demolitori dei messaggi che i grandi maestri in origine avevano tentato di dare il buddismo che era rimasto piuttosto puro ci hanno pensato i cinesi che mi stanno molto simpatici a perseguitare un popolo che viveva in una pace in una quiete su un posticino isolato là e il mondo attaciuto qualche star di Hollywood ha tentato poverino apprezzabile ma il mondo si è voltato dall'altra parte addirittura la nostra chiesa non ha speso una parola per difendere un'antica antichissima spiritualità e così il buddismo abbiamo praticamente una diaspora il Dalai Lama che ha dovuto vagare per il mondo pressappoco inascoltato e poi la nostra chiesa sappiamo in che difficoltà è le guerre di religione insomma tutto ciò che è istituzione religiosa è divenuta sempre più uno sfregio un ostacolo al messaggio che secondo me puro in origine avevano grandissimi maestri che avevano realizzato qualcosa dentro il loro animo come Gesù come il Buddha anche Socrate per quanto molte persone non riescano perché non non guardano perché sono piene di condizionamenti non riescano a vedere il messaggio ultimo che è identico ad esempio i primi quattro dialoghi gli aporetici di Socrate che nella poria tentavano di lasciare la mente in uno spazio vuoto Socrate partiva dall'elencos dalla ragione è una dialettica che lavora molto in maniera attraverso la ragione il pensiero per poi svuotare la mente arrivare all'insight all'intuizione il Buddha partiva proprio dalla meditazione più pura il Vipassana l'ascolto del respiro che aiuta la mente il cuore ad acquietarsi per poi lasciare emergere l'essere il Cristo era la preghiera l'abbandono alla vita al padre al al seme dell'universo chiamatelo come volete però la preghiera è essenziale quando togliete tutte le preghiere che poi la Chiesa ha costruito utili all'ego dell'uomo fammi ripartire la macchina d'inverno fammi diventare ricco sia fatta la tua volontà è la morte dell'ego anche lì ecco se non riusciamo a cogliere che questi esseri umani 2500 anni fa 2000 anni fa avevano realizzato un qualcosa dentro e hanno donato la loro vita per cercare di comunicarci questo qualcosa ecco che tutto si sfasa non riusciamo più a vedere qual è la strada e vi vorrei fare l'ultima metafora prima di leggervi questo frammentino tutte le strade portano a Roma vero? ecco tutti i messaggi di questi grandi maestri per chi riesce un po' a intuire portano tutte a Roma cioè al nostro cuore in un termine più moderno potremmo dire alla coscienza universale alla coscienza che vibra attraverso tutti gli esseri di questa terra dagli animali alle piante all'essere umano perché noi ci pensiamo superiori il gatto inferiore è è un qualcosa di indescrivibile se si ha una minima intuizione è un qualcosa dove tutte le parole finiscono per quello tutti questi maestri hanno sempre detto che è il silenzio l'unica porta per accedere a questa dimensione a questa realizzazione perché non ci sono più definizioni dove non puoi dividere non ci sono la parola funziona nella divisione provate a pensare ad una parola che non divida anche quando dici la vita è una l'uno dà l'idea di un qualcosa di chiuso il Buddha perché ha parlato l'Advaita Vedanta ad esempio questa filosofia antichissima che fa parte dell'induismo parla del non due la vita è non dualità capite che sofisticati che che intuizione geniale non hanno voluto nemmeno usare l'uno ma hanno detto no fermati di che non è divisa e si percepisce un'immensità l'uno chiude l'importante è capirsi le dita che indicano la luna sono infinite che sono i rimandi le parole le strade che vanno a Roma e non guardare la strada percorri la strada perché se tu guardi questi cinque metri e poi trovi un testo che ti ha descritto cinque metri di una strada che arrivava da sud e tu sei a nord e dici ma il testo è diverso è un'altra religione sono diverse sono in opposizione questa è follia l'ignoranza dell'uomo che poi su quei cinque metri costruisce una religione che fa dei riti che fa un'opposizione ma poi mettiamo da parte un secondo le religioni abbiamo poi pensate che non si siano risvegliati che questa intuizione non l'abbiano avuta altri uomini in millenni da quando è morto il Buddha da duemila cinquecento anni Gesù duemila anni pensate che nessuno si sia più risvegliato perché nella nostra testa abbiamo l'unico figlio di Dio ma anche nei Vangeli c'è scritto che chi ha fede nelle mie parole quindi si abbandona e le realizza farà cose anche più grandi di me e abbiamo avuto uomini eccezionali ma noi siamo siamo sempre persi là nella materia nel proprio nella materia più grezza nel senso più dispregiativo del termine un grande uomo in una certa visione della religione è unicamente colui che fa un miracolo che mi trasforma questo portafoglio vuoto in un portafoglio pieno l'acqua in vino oggi probabilmente il conto pieno di Bitcoin ma scusate il più grande miracolo perché è un miracolo già nascere è un miracolo perché? perché ci siamo potete usare tutte le filosofie del mondo non c'è risposta a un mistero a un miracolo e per fortuna se ci fosse una risposta anche lì sarebbe ancora tecnicismo scienza allora il più grande miracolo dentro il miracolo della vita non è semplicemente liberarsi essere liberi da ogni paura amare se un uomo riuscisse a convertire il cuore di questa umanità così scura buia non sarebbe più grande miracolo che cosa ve ne fate di tutti i soldi del mondo dell'acqua trasformata in vino se poi non sappiamo chi siamo se siamo pieni di paura guardate i miliardari come cercano di dominare il mondo perché sono terrorizzati dal mondo allora vi dicevo scusate adesso arrivo subito a queste parole ci sono stati tantissimi altri maestri nei secoli dopo la morte di un Gesù di un Buddha di Socrate ce ne sono stati tantissimi ce ne sono oggi di viventi ve ne avevo parlato credo che Eckhart Tolle sia un grandissimo maestro contemporaneo Krishnamurti Ramana Nisargadatta Rupert Spira ho letto cose meravigliose ho visto conferenze belle secondo me c'è Moji sono dei maestri risvegliati contemporanei ma il condizionamento che è stato imposto dalle istituzioni per avere potere dirti che la persona che è lì che ha la sua chiesa che poi guardate che sistema di affari di business il condizionamento che ti hanno costruito ha reso persone completamente ate che vuol dire niente dal mio punto di vista se non hai indagato come fai a dire io perché ci hanno messo dentro il credere o non credere i grandi maestri da Gesù a Buddha non ti stavano parlando di credere nel senso che le istituzioni hanno tramandato cioè credi in quel che dico essi mio non sei più un discepolo sei un suddito io ho la verità io sono la figura che rappresenta la verità ma no la verità sei tu nel tuo cuore convertiti non vuol dire pentiti vuol dire converti la direzione del tuo sguardo che sta indagando solo là fuori nella materia gretta guarda la luce da dove viene Nisarga in questo testo continua a dire ma non vedi che tu sei la luce del mondo se tu non ci fossi cosa esisterebbe qualcuno direbbe gli altri muoio io rimane il mondo ma non è anche questa un'idea dentro di te quindi e per l'altro supponiamo anche rimanesse il mondo per gli altri il mondo non è illuminato da esseri viventi ogni essere vivente non è la luce del mondo è quella luce che quando guarda fuori vede cose e attraverso la mente spesso nella metafora identificata in un prisma che rifrange la luce divide bianchi neri nord sud gialli blu fucsia cristiani musulmani crea divisioni anche la parola diavolo significa dividere è metaforico non arrabbiatevi col diavolo divide la mente divide tutto se il raggio torna indietro ti converti vedi da dove sorge è un po' come il sole il sole permette la vita di ogni cosa ma non è coinvolto con nulla i suoi raggi il suo calore danno la vita ma lui non è coinvolto con nulla ecco noi quando siamo come un raggio che unicamente guarda le cose della vita ci identifichiamo allora se un fiore nasce e poi appassisce noi pensiamo di morire con le cose del mondo ma noi siamo il raggio se il raggio si volta e abbiamo questa possibilità in profonda meditazione in preghiera ma non le preghiere che ci hanno insegnato fa che la macchina mi riparta l'unica preghiera che c'è nei Vangeli per dire il padre nostro e forse il passaggio più importante sia fatta la tua volontà è la demolizione dell'ego che cerca continuamente le sue strade attraverso la frammentazione del prisma mi abbandono mi prendo dei momenti per abbandonarmi e torno torno sole solo sole ecco questo è il più grande miracolo e puoi esserlo tu queste persone devono tornare a ad apparire sulla faccia della terra allora questo frammento è bellissimo perché in questa fase drammatica che stiamo vivendo spesso ci chiediamo come facciamo a cambiare la società qua un ragazzo va da lui e chiede a a Nisargadatta vi leggo la domanda non ti importa affatto di come va il mondo guarda gli orrori nel Pakistan orientale non ti toccano per niente sotto c'è una nota questa domanda è stata fatta nel 71 quando nel Pakistan orientale oggi Bangladesh si combatteva la guerra per l'indipendenza allora il ragazzo sta provocando come alcune domande qui sono provocatorie perché Nisargadatta nel suo nel suo insegnamento sia verbale orale che pratico di azione irritava perché parlava della possibilità di realizzare una quieta una pace trasformare il mondo attraverso la nostra pace e sapete noi così coinvolti nell'azione nel voler cambiare vedere una persona che dice guarda che la risposta ciò che realmente può dare una svolta all'umanità è risvegliarti ad avere questa pace ci fa scusate il termine incazzare è come tu stai lì seduto e cosa cambi allora gli dice ma tu li leggi i giornali non vedi la gente ad esempio oggi non vedi la gente che muore per il covid o qualcun altro che dice il governo ha esagerato questa cosa per speculare per dominare controllare che è quella parte che abbiamo fatto in molti video secondo me Nisargadatta non l'avrebbe mai fatta io amo farla quella parte necessaria a leggere i condizionamenti e le distorsioni che il mondo intorno degli interessi cerca di infilarci nella mente ok ma fatta quella parte bisogna iniziare ad entrare nel nostro silenzio perché poi dobbiamo vivere lavorare crescere i nostri figli e non ci possiamo far infettare dal male del mondo dalla sua oscurità quindi vediamo i condizionamenti ma poi bisogna agire agire vuol dire ora ho capito che la tv non l'accendo più salvo per guardare magari quel programma che so che è veramente interessante ma non sono più un intrattenuto dalla tv i giornali non li prendo più o li leggo ogni tanto con quel piglio estremamente critico perché so che mi stanno manipolando quasi in tutte le informazioni allora devo iniziare ad agire perché devo creare silenzio il raggio di sole deve ritornare alla sua sorgente e non morire con le cose che muoiono non perdersi nel buio delle cose oscure di questo mondo vi ricordate quella frase negli evangeli non lottare contro il male non resistere al male probabilmente l'avranno tradotta anche quella da cani come non lottare contro il male ho fatto un video sulla luce la natura del buio e della luce se tu hai una minima lucina dentro di te appunto quel raggetto che arriva dal sole filtra attraverso i tuoi mille condizionamenti non è che sei molto luminoso sei buio però ti basta per vedere che c'è tanta violenza oscurità un mondo traballante se tu con quella piccola luce continui a lottare pensando al male oh mio dio cosa fanno che nuova cospirazione c'è e quel potere lì cosa farà la tua luce si spegne allora quando vedi che la fuori è tenebra quella tua piccola luce ha visto che là c'è tenebra e gli uomini si perdono nelle tenebre non lottare vai verso quella sorgente da dove viene la luce questo voleva dire non lottare contro il male allora abbiamo fatto questo lavoro osservando i condizionamenti lo faremo ancora perché ci divertiamo perché è importante ma poi iniziamo a costruire il nostro spazio di silenzio il nostro scudo la nostra difesa allora è come se iniziassimo a destromettere dal nostro sistema interiore tutti questi veleni via tutte le parole che avvelenano tutte le azioni che tentano di l'intrattenimento che ti trattiene cercano di trattenerti di farti divenire un consumatore un oggetto che consuma oggetti l'ho capito adesso vi metto da parte ecco qua molti inizierebbero a fare la domanda di questo giovane sì e allora ti metti lì calmo trovi pace ma tu lo vedi che le persone muoiono che cosa fai tu nella tua vita ed ecco la risposta sì certo leggo i giornali risponde Nisarga immaginatevi oggi leggo l'omicidio di Floyd in America i tumulti la Russia la Cina leggo leggo lo so e so cosa succede ma la mia reazione non è simile alla tua tu vai in cerca di una cura mentre io sono interessato a prevenire prevenire vuol dire evitare che si generino le condizioni per continuare ad avere situazioni del genere e come le hai situazioni del genere avendo individui impauriti che non si conoscono perché l'individuo quando è che inizia a dividersi dagli altri a voler accumulare denaro al di là di ogni logica e senso quando è che inizia ad amare addirittura i suoi padroni i suoi tiranni come ho visto spesso quando ho fatto notare i conflitti di interesse di persone come Soros Bill Gates miliardari che controllano sanità ci sono persone medio benestanti o povere che ti dicono sei invidioso anch'io vorrei riuscire come loro tu non riesci più proprio a capire lo squilibrio non riesci più a capire la malattia che c'è dietro questa dimensione perché anche tu sei malato vorresti essere come loro e cioè vuoi avere forza dominare la vita poter lottare vuoi denunciare il tuo vicino perché fa troppo rumore e vuoi avere soldi per schiacciarlo e il tuo vicino vorrebbe schiacciare te ecco lui dice tu cerchi una cura che vuol dire un po' il problema è là fuori devo curarlo io vado alla causa devo togliere le cause che generano il male potremmo in un certo modo dire che se non conosco la causa che cura è che sto dando magari una cura letale e infatti questi personaggi non ci propongono sempre delle cure letali guardate il mio video passato chi non l'avesse visto sul comunismo com'era identico alla fin fine al nazionalsocialismo fascismo e comunismo sono identici perché generano dei sistemi di potere che cercano di imporre alle masse un nuovo sistema visto corretto ad esempio oggi abbiamo la deriva del capitalismo nel neoliberismo io direi il neoliberismo basato su finanza e scientismo che tenta di controllare le persone le controlla sempre di più attraverso un sofisticatissimo sistema ideologico di condizionamento creando delle elite mai viste in precedenza o forse al tempo dei faraoni sono tutti sistemi uguali ad un certo punto con una forma diversa alla sostanza identica dall'alto c'è un controllo un'idea che si impone ma le persone esploderanno sempre perché non hai cambiato il cuore delle persone tu stesso che cerchi di cambiare le persone sei il peggior impostore sei il peggior sei l'individuo più aggressivo che ci sia tu che ti senti riformista e questo l'ho trattato bene spero nel mio testo il virus benefico allora qua lo dice Nisarga finché la gente sarà impegnata a dividere e separare finché sarai egoista e aggressiva cose del genere continueranno ad avvenire se volete pace e armonia nel mondo dovete avere pace e armonia nei vostri cuori e nelle vostre menti il cambiamento che vuoi tu non può essere imposto deve venire da dentro sta proprio dicendo ma quando guardi la società e la vuoi cambiare come fai ad agire trasformandola se non cambi il cuore delle persone che divengano amorevoli sveglie dall'interno e pertanto producano un'armonia amorevole spontanea come fai se non si se non si innesca questo processo e si può innescare unicamente se tu per quanto fuori ci sia l'inferno sei quieto perché hai conosciuto te stesso perché sai che dentro di te la tua realtà più profonda è senza tempo e senza spazio passa attraverso ogni esperienza e ne è non ne viene toccata anzi la morte è un momento di enorme trascendenza ricordo un maestro non so se fosse Krishnamurti che in uno dei suoi passaggi disse solo chi ha amato profondamente ha visto morire chi amava conosce l'immortalità della vita perché se ami profondamente una persona ti sei connesso a quel livello dove la morte del corpo della forma senti che è nulla allora diceva questo maestro quando sparisce il corpo di chi hai amato senti un'esplosione di presenza e questo l'ho visto accadere lo so ci sono persone che avendo perso la persona amata hanno detto e chi non capisce chi non riesce a vivere a questo livello di profondità del cuore dice questi sono matti dicono il mio amore è qui con me è sempre qui con me eh sì parole di uno che si consola no cioè è un po' come cercare di spiegare a dei ciechi la luce l'amore è veggente non è cieco ma quel tipo d'amore non l'amore passionale l'amore sessuale deviato che oggi va per la maggiore è un amore veramente estremamente profondo parte proprio da un'altra dimensione non si muove dai genitali o dalla mente noi ci muoviamo e pertanto non creiamo amore vediamo cosa viene creato spesso è bramosia passione sessualità noi partiamo di solito dalla mente dai genitali perché la nostra il nostro sistema l'istruzione la scuola non apre il cuore non è educativa è istruttiva e più divieni mentale e più fai funzionare anche il sesso attraverso la testa i sentimenti attraverso la testa il prisma allora se tutto questo testo ci invita a riscoprire la nostra realtà ultima più vera se facciamo questo se torniamo verso il sole è quella metafora che vi ho già fatto è come se ci accendessimo finalmente diveniamo un cerino acceso e forse avvicinandoci ad altri cerini passando questa queste parole voi avrete le vostre lui ha le sue Gesù usava altre parole Tolle vivente usa altre parole però le strade che portano a Roma sono diverse ma portano tutte lì userete le vostre parole ma l'essenza del messaggio è la stessa e quando percorri quella strada arrivi veramente ad un cambiamento qualcuno anche qui lo so dice ok cambio io ma la società ho toccato due tre persone ho aiutato un po' qualcuno a guardare perché poi noi cambiamo proprio niente noi semplicemente siamo un cartello stradale diamo un'indicazione poi la persona che cambia o non cambia e questa è la bellezza degli esseri umani io non posso imporre il cambiamento capite lui dice il cambiamento che vuoi tu non può essere imposto questa è la meraviglia dell'amore e la malvagità della mente che pensa di essere la soluzione impone la soluzione io ti posso dire guarda che il cuore Roma è verso il tuo interno stai in silenzio trovati spazi elimina la contaminazione dall'estero se lo vuoi fare lo fai se no no ma perché sei libero il mondo fuori degli ignoranti vuole importi il cambiamento vuole farti diventare giusto allora voi avrete le vostre parole percorrerete la vostra strada ma questo diceva Nisarga così trovo le cause e trovo la vera cura è libero veramente il mondo in un altro passaggio dice la cosa migliore che puoi fare è liberare il mondo dalla tua pesantezza dalla tua oscurità dalla tua rabbia del tuo odio hai fatto la cosa più grande possibile questo mondo ha una persona dannosa in meno ecco allora dobbiamo iniziare veramente a capire la potenza del dell'azione quieta noi non ci rendiamo conto anche adesso vogliamo andiamo in piazza distruggiamo tutto sono stato contattato da un paio di movimenti nascenti diciamo la stessa cosa no non diciamo la stessa cosa io non voglio organizzarmi lo potete fare tutti voi siete tutti piccole sentinelle di luce basta solo iniziare ad essere il più il più vigili il più liberi il più il più amorevoli possibile lo so che è difficile in questo momento ma vedrete che è la soluzione più geniale possibile in ogni caso perché anche se il mondo fuori non si risveglia a sufficienza per vedere in questa nostra vita un cambiamento beh ma voi con magari le persone chiamate di più vicino sarete passati attraverso questo caos nel modo più luminoso possibile e quindi anche per un principio di intelligente egoismo beh io ho fatto una vita piena degna e non posso fare nulla sugli altri perché non è l'imposizione che cambia gli altri il cambiamento verrà forse della società intesa come grande massa ma ce ne vorrà di tempo capite? quindi da ogni punto di vista da cui si guardi questa questo suggerimento che ci danno in Sarga è l'unica strada è la strada vincente tutte le altre sono le strade che hanno prodotto continui continui rivoluzioni tempi di pace tempi di finta pace e tempi di guerra perché in realtà quelle sono la pace che noi abbiamo conosciuto oggi è solo una breve pausa fra due conflitti nel mondo dei contrari gli opposti coincidono diceva Eraclito o Eraclito come volete cioè una pace che è data unicamente da un post guerra come la seconda guerra mondiale cioè abbiamo visto talmente dolore che adesso sono sgomento dall'orrore mi fermo e non hai conosciuto la realtà più profonda dell'essere umano quindi non sei riuscito nemmeno a passarla ai tuoi figli perché quando morirai tu che hai ti sei vaccinato dall'orrore perché l'hai visto hai visto robe cose orrende i tuoi figli nella quiete avendo un ego che non è libero ma è condizionabilissimo è pieno di cupidigia di aggressività ecco che ricominceranno a costruire una società violenta esattamente quel che è accaduto fino a seconda guerra mondiale arriviamo intorno beh immediatamente dopo soprattutto i grandi centri di potere hanno tenuto la tensione tra le due potenze la guerra fredda poi crolla l'unione sovietica crolla il muro nell'89 e boom la società benestante cioè l'occidente inizia a divenire un divoratore delle altre società perché non ha capito niente e adesso siamo addirittura in una fase in cui abbiamo uno scollamento sempre più grande della chiesa perché non è un riferimento non sa più essa stessa dove sia gli centri di potere hanno sviluppato un benessere che li ha accecati completamente allora o servirà un'altra guerra terrificante e poi si genererà un'altra pausa per la prossima guerra o questo è il momento buono per comprendere finalmente queste cose quel che ci indicavano i grandi maestri i punti di riferimento delle religioni che tragicamente dopo sono divenute istituzioni non erano fantasie questo credere in un dio oggi si crede o non si crede erano rimandi ad una profonda realtà interiore l'unica possibilità per creare una società risvegliata spirituale che non teme la vita e la morte per quello vive in amore che è la stessa identica cosa scusatevi saluto che stanno dicendo dei grandi maestri viventi oggi stesso e Cartolle sta dicendo le stesse cose di Gesù e ci sono persone che se state accanto a loro sentite che non sono parole ma sono realizzazioni sono persone che diffondono una quieta enorme immaginate questa sorta di diffusori come noi abbiamo il diffusore di profumo nelle case questi diffusori di una serenità profonda ce ne fossero tanti in giro il mondo inizierebbe a profumare di fiori invece con la gente che c'è oggi in giro profuma da sterco di vacca bene oggi primo frammento di Nisarga questo testo meraviglioso torneremo su altri frammenti bellissimi per la nostra contemporaneità grazie ci vediamo al prossimo video grazie a tutti